Buongiorno a tutti, siamo dalla sala operatore dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, la sala operatore dell'urologia, io sono il dottor Ruoppolo, direttore dell'unità operativa di urologia e andrologia di Agrigento e sono insieme al mio amico professore Gabriele Antonini di Roma per una seduta operatoria di chirurgia protesica peniena. Si tratta del settimo appuntamento di queste sessioni chirurgiche che avevamo pianificato già da tempo in collaborazione appunto col professor Antonini e ormai annoveriamo 15 pazienti nella nostra casistica. Anche quest'oggi abbiamo avuto tre casi di complessità variegate e che comunque sono stati già trattati e è stata impiantata una protesi tricomponente. Si trattava di pazienti di età compresa fra il più anziano di 76 anni, però anche un paziente giovane di 20 anni che aveva una problematica di disfunzione rettile molto grave da fuga venosa e che appunto l'unico rimedio poi alla fine si è rivelato quello dell'impianto protesico intracavernoso tricomponente. Volevo lasciare ora il microfono qui al mio amico professor Gabriele Antonini che comunque ci illustrerà un po' gli aspetti tecnici del trattamento e in particolare quello che è l'esito, il risultato, perché questi pazienti poi in effetti da una situazione che oltre ad essere fisica e anche una problematica psicologica non indifferente ora invece possono riprendere appieno la loro vita di relazione e quindi anche quello che è l'attività sessuale che ovviamente compenetra un po' tutto il vissuto del paziente. Beh, innanzitutto ti ringrazio Michele, hai detto bene. A me la cosa che preme sottolineare, la cosa principale, è che ormai Agrigento è il centro di riferimento per la Sicilia per l'impianto di protesi peniene idrauliche tricomponenti. Siamo, anzi, il tuo centro, perché io sono un piccolo collaboratore, vengo qui perché amo collaborare e amo la Sicilia, il tuo centro è diventato un riferimento per questo tipo di procedura. Oggi abbiamo trattato tre pazienti diversi e abbiamo coperto tutti gli aspetti dell'implantologia protesica. Il primo paziente è un paziente di 52 anni con un indurazio penis molto severa con una curvatura dorsale del pene di 90 gradi, un paziente vascolare di 20 anni quindi con una componente emotiva psicologica drammatica, non si approcciava più neanche alla fidanzata e un paziente un po' più in là con gli anni che ha subito una prostatectomia radicale quindi un paziente post-oncologico nel quale abbiamo impiantato il serbatoio in posizione ectopica che è uno di quei rimedi nei pazienti che hanno fatto o prostatectomia radicale o radioterapia per impiantare in modo sicuro il serbatoio e non avere delle possibili complicanze. Mi preme sottolineare la tua grande disponibilità, la tua grande gentilezza io sono entusiasta di venire qua, si mangia benissimo tra l'altro e quindi ti ringrazio ancora e speriamo che questo progetto di formazione possa andare avanti più tempo possibile anche Covid permettendo perché veramente riusciamo a fare un grande lavoro e un grande servizio a tutti i nostri, i tuoi, i pazienti di tutti quanti. Grazie Michele. Grazie Gabriele, grazie sempre della tua professionalità e del tuo impegno perché insomma anche venire trasferimenti poi in questo periodo sappiamo quante sono le difficoltà da affrontare e comunque concludo lanciando questo messaggio. Come giustamente hai detto tu Agrigento ormai si è posto come centro leader in Sicilia per quanto riguarda l'impiantologia peniena per cui tutti i pazienti che hanno queste problematiche e sappiamo che sono tanti perché ci sono quelli post chirurgici, quelli da incompetenza venosa, quelli con l'indurazio penis, insomma ci sono tante categorie di pazienti che alla fine hanno una disfunzione rettile grave e per tutti questi pazienti noi abbiamo la risposta per cui sappiate pure che qua da Agrigento possiamo risolvere queste problematiche. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.